Colpo all'imprenditore amico dei bossi, re dei supermercati Paolo Siciliano, ritenuto legato ai clan Belforte di Marcianise e al gruppo Zagaria dei Casalesi, operazione congiunta in queste ore di carabinieri del ROS e finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, che hanno eseguito nei confronti dell'imprenditore una misura di prevenzione patrimoniale con sequestro di beni mobili e immobili per 60 milioni di euro. Siciliano venne arrestato insieme con i nipoti del boss Michele Zagaria, Filippo Nicola e Mario Francesco Capaldo, ma poi il Tribunale del Riesame lo rimise in libertà. All'imprenditore sono riconducibili otto aziende dei settori immobiliare ed ile della grande distribuzione e commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Nel suo patrimonio anche una catena di supermercati con ben 21 punti vendita in tutta la provincia di Caserta. Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli e dalla DDA hanno svelato come siciliano avrebbe accumulato un vero e proprio tesoro, permettendo di acquisire indizi per gli inquirenti sulla sua pericolosità e sulla formazione illecita delle sue attività, considerata la vicinanza alla criminalità organizzata del casertano.